Ciao, io sono Tommaso e oggi parliamo di salvataggio dei progetti in DaVinci Resolve. Per salvare un progetto all'interno di DaVinci Resolve ci sono più opzioni. C'è la possibilità di salvare solo il progetto con un file che avrà un'estensione DRP oppure salvare un archivio che avrà un'estensione DRA. Le differenze sostanziali tra progetto e archivio sono che il progetto porta con sé solo le informazioni che occorrono per ricreare poi l'intera timeline all'interno di un altro computer ad esempio mentre il DRA, l'archivio, porta con sé anche i file media. Quindi il progetto, il DRP, sarà molto più leggero come file il DRA sarà un archivio che conterrà tutti i file media quindi sarà molto 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 più pesante del progetto senza appunto i media. Vantaggi e svantaggi di utilizzare un progetto piuttosto che un archivio? Beh, il progetto è utile se abbiamo i file media nei vari computer in cui andremo a lavorare oppure se dobbiamo solo salvarci il nostro progettino da tenere da parte per poi magari andare a lavorarlo, che ne so, tra due anni recuperando quell'hard disk dove ci sono i media. Se invece vogliamo trasportare l'intero progetto con anche appunto i file media che ne so, in un altro computer da un cliente spostarlo proprio perché sappiamo che non vogliamo andare a portarci dietro tutto l'hard disk completo allora andremo a recuperare il nostro DaVinci Resolve Archive e con tutti i media lo porteremo nell'altro computer. Ma diamo un'occhiata all'interfaccia di DaVinci per vedere come si va a salvare, ad esportare e a reimportare sia il progetto che l'archivio. Eccoci qui, andiamo ad aprire immediatamente il nostro Project Manager cliccando sulla casina in basso a destra e vediamo il nostro progetto completo e finito che si trova già qui. Per esportare il nostro progetto andremo a cliccarci sopra con il pulsante destro e andremo a dirgli appunto di esportare il progetto. Molto semplice e molto intuitivo. Nel momento in cui lo andremo ad aprire andremo a chiamarlo Export Test Bartender e daremo Save. Andiamo a dare un'occhiata dove ha salvato il nostro file e vedete che eccolo qui, Export Test Bartender con una dimensione di 1,6 MB. Veramente nulla, ma perché? Perché non ci sono i media file all'interno. Quindi se noi adesso andassimo a reimportare questo file all'interno del computer portatile su cui non abbiamo i media file troveremo un problema di relink file. Quindi avremo tutti i file senza i link ai file originali e quindi bisognerà fare un relink file che se non avete visto si fa così. Guardate qui in alto sull'altro video che ho pubblicato settimana scorsa. Per andare a reimportare il file andando di nuovo nel nostro Project Manager clicchiamo con il pulsante destro in un qualsiasi punto del Project Manager e gli diremo Import Project. Andremo a recuperare Export Test Bartender da 1,6 MB. gli daremo Open e automaticamente verrà importato ed inserito all'interno del nostro Project Manager. In questo caso dando doppio clic all'interno di Export Test Bartender abbiamo già tutti i file linkati per il semplice motivo che ho utilizzato lo stesso computer. Nell'eventualità lo faceste in un computer differente avrete appunto, ricordatevi, tutti i file da relincare. Se vogliamo invece andare ad esportare anche i media quindi tutto il pacchetto interno dovremo andare con il pulsante destro sempre sopra il nostro progetto e non gli diremo più Export Project ma gli diremo Export Project Archive. Andiamo a cliccarci sopra lo chiameremo sempre nella stessa maniera quindi Export Test Bartender gli daremo Save e qui compare la prima domanda Archive, tu mi chiede dove vuole andare a salvare l'archive? ma ci chiede anche se vogliamo portarci con noi anche la Render Cache e gli Optimized Media quindi tutto quello che è stato lavorato all'interno della timeline. Se andrete ad esportare anche Optimized Media e Render Cache avrete meno lavoro da fare nel computer in cui andrete ad inserire i file. Io in questo momento vado a toglierli e vado a dargli un ok perché non sono interessato a portarmi dietro anche Render Cache e Optimized Media. Vedrete che il tempo di renderizzazione sarà molto 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 più lungo tant'è che adesso aspettiamo e ci portiamo direttamente alla fine della renderizzazione. Terminato! Andiamo a vedere dove è stato salvato ovvero qui eccolo qui Export Test Bartender DRA Vedete che è una cartella quindi abbiamo la possibilità di andare anche a visualizzare che cosa c'è all'interno di questa cartella giusto per darvi un'idea di cosa c'è all'interno ma non dovrete farlo da un punto di vista tecnico non occorrerà spulciarci dentro perché poi il programma farà tutto in automatico però vi voglio far vedere che cosa c'è all'interno del file DRA c'è il progetto quindi quello che peserà un mega e 6 eccolo qui ovvero quello che prima avevamo chiamato Export Test Bartender e poi una cartella che contiene tutti i volumi del mio hard disk su cui ci sono i media quindi all'interno di user troveremo Tommy vedete che trovate desktop, documenti, download tutte le informazioni che occorrono per raggiungere i miei file perché alcuni di questi file tipo i loghi erano appoggiati sul desktop e lui non ha fatto altro alcune vedete audio che sono all'interno della cartella documenti alcuni file tipo i loghi che abbiamo all'interno di download e poi all'interno di Volumes abbiamo il mio, la C2BigDoc se non avete visto la recensione di quella hard disk andatevela a vedere è qui sopra, è una bomba mi ci sto trovando veramente bene all'interno della C2Big ma non sono dentro all'hard disk di 2Big sono all'interno dell'archivia che ha salvato i file che si trovano all'interno della C2Big in un'altra cartella che poi è all'interno di questo file DRA difatti vedete download ed acquisti ho i file di Messiah e i file degli eventi quindi ecco qui all'interno degli eventi 2019-916 bartender, agriwellness, just wow e dentro nuovamente avrò tutti i miei file quindi lui mi ha salvato tutti i file all'interno di questo unico file a sua volta contenitore DaVinci Resolve Archive che guardate un po' cosa pesa ottieni informazioni pesa 92 giga ok? come facciamo ad andare a reimportarlo? beh, semplice come la reimportazione del nostro progetto pulsante destro restore project archive ed eccolo qui export test bartender e andremo a dargli open nuovamente copy va benissimo ovviamente l'importazione sarà più veloce ed ecco qui il nostro copy bartender con tutti i file al suo interno automaticamente generati e automaticamente ricreati quindi non servirà neanche rifare il relink clip notate però una cosa che non avendo esportato i file di renderizzazione e i cache vedete che li sta renderizzando perché non abbiamo appunto esportato la renderizzazione bene, vi ho spiegato come funzionano DRP e DRA se il video vi è piaciuto e se pensate che possa essere interessante condividetelo e cliccate un bel mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno gli appuntamenti sono il martedì con la diretta il mercoledì con le videoproduzioni con i test e i tutorial e il giovedì con le pillole di DaVinci Resolve a me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video ciao